A causa di lavori di manutenzione sulla condotta idroelettrica che dal lago di Cavedine precipita alla centrale di Torbole, Idrodolomiti Energia bloccherà il deflusso di acqua della rete di irrigazione a goccia in quasi tutta la Busa dal 2 al 4 maggio e dall'8 al 15. Saranno circa 7.000 le utenze interessate. Stiamo provvedendo ad installare due pompe al ponte di Ceniga per prelevare l'acqua dal Sarca, ha spiegato Giorgio Plancksteiner, presidente del consorzio di secondo grado, ma non saranno sufficienti per dare acqua a tutto il sistema. Nell'emergenza dovremo dare priorità alle culture più a rischio, come melo e kiwi, poi le vigne, sperando arrivi l'acqua anche negli orti. Per posizionare e affittare le pompe il consorzio spenderà 38.000 euro, ma non sembrano esserci alternative per fronteggiare l'imprevisto. La nuova rete irrigua a goccia ha eliminato l'uso delle fitte in Busa e permette di risparmiare un'enorme quantità di acqua e anche di gasolio.